Luigi Ercolino, amministratore delegato dell'AIR, oggi non solo la riconfirma di Porta ma anche il nuovo acquisto di Brown. Sì, abbiamo chiuso così il pacchetto di regia, un pacchetto importante dove ribadisco i ringraziamenti per Antonio Porta che si è legato con una dimostrazione di grande affetto a questi colori per un altro anno alla Scandone Basket e che sono convinto che proprio spinto da questa sua volontà, da questo suo amore verso questi colori ci regala grande soddisfazione anche sul parquet. Adesso manca solo una pedina che è la guardia, quanto potremmo vedere il roster completo? Credo che ormai siamo vicinissimi alla chiusura del roster, prima delle prossime 24 ore ufficializzeremo la chiusura del mercato della Scandone con l'ufficializzazione della guardia e poi giù al lavoro per preparare il prossimo campionato. Grazie.